E cosa faccio ora? Che vuoi fare? Che stai facendo? Che stai facendo? No, 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 posa... Buongiorno Tim Trote e benvenuti in un nuovo vlog. Oggi ho intenzione di fare uno scherzo alla mia ragazza Sofì. Guardate qui cosa ho preso. Tadà! La bellezza di 100 trappole per topi. Guardate qui che roba. Dentro oggi in pacchetto ci sono 4 trappole per topi e guardate qui quante sono. Ho intenzione di farle uno scherzetto davvero cattivo. Qualche giorno fa per chi si fosse perso il video abbiamo realizzato la trappola per topi challenge. Ho una sfida che vi è piaciuta un sacco e che ha ispirato questo prank. Ovvero approfitterò del fatto che molto presto anche lei probabilmente si starà ancora preparando per andare a casa sua, irrompere nella sua stanza e riempire tutta la camera di trappole per topi. Quando lei si accorgerà delle trappole li impazzirà. Prima però direi di andarne a provare una per capire come funzionano. Ok, questo va così. Questo qui dovrebbe essere attiva. Ok, è pronta. Adesso la dovrei attivare in qualche modo. Ok, vediamo se funziona. Cavolo, guardate che roba. Sono davvero super pericolose. Mi raccomando non lo rifate a casa per nessun motivo. Ma adesso è il momento di mettere in alto il nostro piano malefico. Quindi prendiamo le nostre trappole e andiamo da Sofì. Voi andate nel mio zaino. No, 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 no. Nello zaino ho detto. Ci siamo. Che il piano avviene inizio. C'è? Buongiorno, carciof. Lui, ma che ci fai qua? Sono arrivato un po' prima per iniziare a vloggare la nostra vita per ogni giorno inizio di me contro te. Sono in pigiama, Lui. Non mi riprendere. Ancora mi devo andare a preparare. Dai calma. Sei bellissima. Ma non ti presto. Sono alle 8 del mattino. Il mattino all'oro in bocca. Lui, stati qua. Siediti. Ora aspetta. Non mettermi fretta. Io ho bisogno dei miei tempi. Dovrei aspettare come minimo un'ora. Riparo le cose e mi devo sistemare. Non mi interessa niente. Non ti preoccupare. Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. Io sono qui ad aspettarti. Lui, guarda che ti conosco ormai. Tu sei venuto qua per farmi fretta. Per mettermi ansia. Adesso mi comincerai a dire. Sofì, Sofì, è tardi. Sbrigati, oh mamma mia. Quanto tempo perdi per sistemarti. Il trucco, i capelli. No, no, aspetti, aspetti. Non ti preoccupare. Nessuna fretta. Vai e preparati con calma. Ok, va bene, lui. Ma fai bravo. Ti tengo d'occhio. Ok. Ciao. Devo mettere la musica mentre mi faccio la doccia. Ok. Che il piano abbia inizio. Le troppole per Toby ci sono. Ok, riproviamoci. Vai, 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 vai. Piazzare tutte queste trappole davanti la porta non sarà affatto semplice. Ci vorrà un'eternità. Ma noi facciamo parte del team draw della squadra più grande in porta di YouTube. E ce la faremo. E se va ancora non fate parte di questa incredibile squadra, non avete assolutamente cliccate e iscriviti qui sotto e il tasto abbonati. Penetra, ci fa parte. Yeah. Vai con la prima trappola. Woo. Ok. Prima trappola posizionata. Ti mancano solamente 99 adesso. Sono solo alla terza trappola e già mi sono fatto male. Non è possibile. Eh. Tutto bene? Sì, sì, tutto ok. Ok, io sono quasi grande, come 10 minuti arrivo. Ok. Come 10 minuti? Io ancora devo piazzare tutte le trappole. Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo buoni. E' stato davvero molto più semplice da il previsto. Mannaggia. Ma cosa anche il sole adesso scattano? Ah. Vi prego non scattate più. Brava, 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 brava. Sì, è con più o meno semplice. Ma l'importante è che abbiamo finito. Siete pronti per vedere il super trappola 7000 scherzo per Sofì? Oh. Ale. Non appena lei aprirà la porta, si ritroverà davanti in questo scenario. Credetemi se vi dico che fa letteralmente paura. E adesso non dobbiamo fare altro che aspettare Sofì. Two hours later. Ok, ok, sta arrivando, sta arrivando. Eccola, eccola. Quasi. Scherzetto! Ma sei impazzito? Sono trappole per Topi? Sì. Perché mi fai sempre scherzi? Sono con l'aggappatoio. Sì. Entra pure a cambiarti. Che problema c'è? E adesso io cosa faccio? Luì, me lo devi spiegare. Non lo so, non è un problema mio. Ciao. Come non è un problema tuo, Luì? Devo passare. Ste cose, se saltano, mi fanno saltare il dito. Sono i rischi e i pericoli di un vlogger. I rischi e i pericoli di un vlogger? Luì, questa me la pagherai. Basta, sono stufa da subire. Farò uno scherzo. Ma uno scherzo. Mi vendicherò terribilmente. Sì, ok. Ma prima devi riuscire a entrare nella stanza. Mamma mia, mamma mia. Esco. Dai, torna, ti aiuto, ti aiuto io. Mi sei andato addosso. Non lo vede. No, aiuto, aiuto, volano. Lancio della trappola. Così si dovrebbero disnescare. Lui, ma che hai combinato? Aiuto. Che vuoi fare? Che stai facendo? Che stai facendo? No, 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 no. Posa. Lui, cosa mi combini? Adesso tu mi risolvi il problema. Stai calma, ti creo un varco. Prendiamo il quadro delle trote. Ecco. Scoppia tutto. Madame, a lei il tappeto rosso. Ce ne sono delle altre. Le ha spostole pure. Mamma mia, mamma mia, è la cosa più pericolosa che abbiamo fatto. Lui, me la pagherai con gli interessi. Sarà e salva. Ok, adesso non sono più. Sarà e salva. Vado, vado, vado. Come faccio a di star a raccogliere da terra? Eh, perché così adesso non si capisce più. Quali sono già state attivate e quali no? Ti odio. Ok, mio caro Lui, qui c'è il zacchetto. Toglimi questi piccoli mostri dalla casa. Ok. Vai, vai. Magna. Ah, ma mannaggia, ancora scoppiano. Se prendo la trappola sbagliata mi salta un dito. Stai attento. È quello che ti meriti. Perché mi è venuta in mente di fare questa sfida? Infatti. Se per sbaglio ne prendo una che ancora non è saltata, li avrai sulla coscienza. Oh, gioiello. Però se saltavi più da me, tu non mi avevi nella coscienza. Ma che scherzi fai? Me ne importa un figo secco. Uno, due. Il vlog di oggi si conclude qui. Presto ci sarà la mia vendetta. Intanto salutiamo Filippo Fornaro che è la trottelite di oggi e mandiamo un bacione a tutti i video. Tutti i video. Ciao, gente. A domani una visione avventura. Ciao. C'è una trappola appesa qui sotto.